decisivo, perlomeno a livello di stracittadina milanese, no? Che domanda fai? Come si apposta? No, beh, non bene. Però, facciamo così, il fatto che il Milan non versa in una buona situazione, secondo te paradossalmente può dare lo slancio per reagire? Può vincere il derby, questa è la domanda. O pareggiare, perché a questo punto credo che il tifoso milanista firmerebbe per un pareggio. Allora, scusami. La storia di Milan-Inter, del derby di Milano, è diversa da quelli e dagli altri. Dove vincere a Genova o a Roma ti dà la supremazia cittadina e vincere solo per il Torino ti dà un senso alla stagione, cosa che non accade da un tempo immemorabile. A Milano i confronti sono fatti sui trofei, sugli scudenti, sulle Coppe Inter. C'erano gli anni di Sacchi che il Milan qualche volta perdeva il derby, ma vinceva lo scudetto, la Coppa dei Campioni, eccetera. E quindi non è un discorso, tantomeno oggi, tantomeno in questa stagione, ha un significato di questo tipo. Poi, vincere... Allora, ti racconto due cose veloci. Il Milan ha vinto in faccia all'Inter una Coppa Italia nell'ultimo giorno, nella partita di Sandro Mazzola. Ha vinto in faccia all'Inter la Coppa dei Campioni, all'Inter dei record di Trapattoni. Ha vinto in faccia due volte, quindi in quattro partite, le qualificazioni in Champions Street. E non è successo niente. L'Inter non deve neanche andare così indietro, basta ricordare il 2023 ha vinto in faccia al Milan una Supercoppa, ha vinto in faccia al Milan due semifinali di Champions, ha vinto in faccia al Milan un derby di 5-1. Quindi, vincere in faccia è quella cosa che ha meno significato di tutto, anche perché... Non la vedresti così come una cosa pesante, quindi? No, ci arrivo. Il derby di Milano è una delle partite dove io, se avessi figli, porterei mio figlio perché non succede mai. Assolutamente. È la partita più tranquilla e più corretta d'Europa, grazie anche al fatto delle curve, e al fatto che sono mescolati i tifosi e non succede nulla. Sarebbe l'ennesima frustrazione, e parliamo pure tranquillamente di umiliazione, perché i 5 derby del 2023 sono stati umilianti. I milanisti non hanno un rimpianto in questi derby, non c'è un rimpianto. Quello che hanno perso più stretto, un 1-0, che tra l'altro a 5 minuti poteva anche pareggiare, è stato il più brutto dei 5, perché è stato giocato in una situazione di affano, di paura e di timore, tutto in difesa come danni. Quindi questa narrazione ha poco senso. Il Milan ha perso, nella maniera che sappiamo, ha preso, è riuscito nell'impresa in una settimana di riprendere tre gol da una squadra che è dietro di 14 punti in classifica, andare fuori da un quarto di finale in cui era favorito, e prenderne tre da una squadra che probabilmente retrocederà in Serie B. E che oggi ne ha presi tre, senza farne uno. Esatto, come ne ha presi quattro dal Monza, due dal Frosinone, due dal Rudinese. Quando giocavano con il Milan, le squadre pericolanti, si leccavano le labbra. Allora, domani serve, secondo me il significato, il peso ce l'ha per il Milan in derby. All'Inter credo che non ci sia, certo che i tifosi ti sfottano, ma tanto ti sfottano uguale. Perché dopo una stagione così, come andrà a finire, andrà a finire, l'Inter vince il campionato, il Milan ha perso tutto, e questo succede dopo due anni. Non c'è un giocatore dell'Inter, forse al turco, interessa di vincere lo scudetto davanti ai tifosi del Milan. Agli altri lo vinci domani sera, lo vinci domenica, che cosa cambia. Il peso ce l'ha per il Milan per tanti motivi. Primo, secondo me, perché Piori non merita di uscire completamente spernacchiato dai tifosi del Milan. Perché il suo lavoro di questi cinque anni è stato enorme. Assolutamente. È stato enorme. È vero che a un certo punto si è incagliato e la crescita si è vista poco. È vero, non conta nulla, che ha due punti più rispetto alla stagione dello scudetto, ma l'Inter è lassù, però ha valorizzato un sacco di giocatori. Il lavoro più importante di Piori è stato che dopo sette anni di oblio ha riportato il Milan costantemente tra le prime squadre della Serie A, due o tre, salvo l'anno scorso che era arrivato dietro sul campo, e in Europa assiduamente. È vero che sono andati, però nel girone abbiamo detto che quest'anno c'erano due... Pioli is on fire a San Siro, non ce lo siamo inventati. No, no, certo, quindi il lavoro è stato per tanti, tanti mesi. Ha ragione, lui ha detto oggi che quest'anno dei milanisti ce ne sono stati pochi, ma la vita degli allenatori, Pioli lo sa molto bene, ripeto, basta leggere dopo i commenti, dopo Real Madrid, Manchester City e dopo la partita che avevano fatto all'andata, fra l'altro. Certo. Dopo la partita che avevano fatto all'area. I tifosi non si convincono mai di questo. E devi tirare una riga rossa dagli schiaffi tipo Trinità a Bud Spencer che hai preso dall'Inter nel 2023. E dai un minimo di, vogliamo parlare sempre senza parlare di orgoglio e dignità come ha fatto lui in conferenza stampa, di decoro alla stagione. Però dico, tornando alla domanda iniziale. No, 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 dico, cosa pensi? Pensi che domani il Milan diriffa sensazioni, lo sai meglio di me, dopo un minuto la partita può cambiare, ma pensi che il Milan scenderà in campo con la bava alla bocca domani? Beh, visto che ci si aspettava che lo avrebbe fatto due volte a San Siro con la Roma e a Roma contro la Roma, domani sera, anche perché domani sera se tu fai, giaccia perdere, vinci o perdere, ma se fai una cattiva figura con l'Inter comincia a essere un po' caldo. La contestazione è bella calda. Quindi sai, anche solo per precauzione io darei il massimo dell'impegno. Farei vedere quello che fai. L'Inter è storicamente così, però negli ultimi stagioni, pronti via, dopo 20 secondi ti comincia a prendere a sportellare, ti butta per terra, ti fa fallo. Alla prima rimessa laterale vanno in tre contro l'arbitro. Cioè, se subivano un gol come il Milan subito da Candreva a Salerno, c'era un drappello di giocatori dell'Inter intorno all'arbitro, intorno a Candreva, intorno ai Guadagnini, stavano un quarto d'ora. Il Milan ha preso il gol, ha riportato a centrocampo, come c'era Tomori in mezzo al campo, fermo da un minuto. Questo è una cosa che tu purtroppo nel Milan non hai. Domani sera, però, per rispondere finalmente alla tua domanda, devi tirare fuori tutto quello che hai. Il più nascosto possibile devi metterlo in campo. Torino vicino al gol con Zapata, quando siamo al 31esimo minuto di gioco, scende per la millesima volta in stagione sulla destra Bellanova, non riesce ad andare al tiro Tames, ci va invece Zapata, siamo praticamente al limite dell'area di rigore, palla che sfiora l'incrocio dei pali, atturati. Anche se Paolo, sette minuti fa, Mazzitelli ha avuto un'occasione da gol, difficile, perché ha tirato al volo da posizione defilata, però può essere incasellata in chance da gol. Più frosinone, non c'è dubbio. 31 di gioco. La controparte interista, invece, come si approccia a questa sfida? Sulla partita che sensazioni hai, Michi? Parliamo di sensazioni, la tua personale. Ma io ho la sensazione che possa vedersi un film, non dico 5-1, però che il Milan fa fatica a poter preparare una partita diversa dal punto di vista delle caratteristiche. L'ha fatto solo una volta in questi cinque derby persi e si vedeva che era snaturato. Quando le avevo sette in pancina. Sì, 1-0, perse. Con Orighi dal primo minuto, 3-5-2. 1-1, una squadra che puntava perché aveva preso troppi gol a gennaio, era l'inizio di febbraio, a non prendere gol, a cercare di mettere un'argine sui tanti gol presi. Qua invece io credo che... Adesso, vedi, non si parla di Murigno, quindi non mi si può dire che Murigno... Io Piolli l'ho sempre difeso. No, perché adesso stiamo parlando di un altro allenatore. Certo. Io Piolli non cambio idea perché adesso è uscito con la Roma. Poi posso capire che arriva la fine di un ciclo quando anche dal punto di vista ambientale non c'è più quella chimica. E questo lo accetto, lo capisco, anche se mi ha fastidio che possa essere il tifoso a indirizzare una scelta. Però in questo caso ovviamente poi non sarà così perché se prenderanno quella scelta. Però voglio dire, per me, io continuo a dire che il Milan di Pioli quest'anno ha mostrato delle lacune che non sono di Pioli, per me. Sono di costruzione. Allora, Giru che è a fine carriera, prendi una punta. A centrocampo non c'è interdizione e prendi un centrocampisico del tipo. In difesa poi lì ti devi chiedere il perché ma comunque non hai mai avuto la difesa titolare e anche domani non ce l'avrai perché sono tre su cinque e sono fuori. Quindi mettendo a posto queste cose, secondo me il problema del Milan non era assolutamente Pioli. Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Luca sul discorso del lavoro. Poi c'è chi dice che il mercato è stato fatto in accordo totale con Pioli. Certo, è stato fatto. Però dopo se rivoluzioni un intero reparto può succedere che non consideri tutto perché poi lo devi vedere alla prova del campo. Alla prova del campo si è visto che una squadra che prende troppi gol. Sì, Pioli in conferenza disse un mesetto fa perché per caratteristiche siamo così e mi piace anche puntare sulla fase offensiva. Però poi se hai un certo tipo di caratteristico, di difensori o di centrocampista frangiflutti magari le partite le porti a casa anche facendo due gol, non ne devi fare per forza tre o quattro. Però mi stai dicendo che tu domani vedi il due, vedi un'intero abbastanza in scioltezza. In scioltezza no, però questa cosa della mistica del dobbiamo entrare col coltello l'ho sentita mille volte e poi alla fine in campo si vedono i valori perché come si fa in un derby a entrare in campo non volendo vincere? Cioè l'Inter per un motivo, il Milan per un altro e nel derby pure quando è amichevole vuoi vincere. Quindi secondo me poi verrà fuori invece le caratteristiche. Che non significa che l'Inter vince sicuro perché magari la partita si incanala in un altro modo. Il Milan per esempio vinse 3-2 quella partita o 2-1 quella dello scudetto quando è arrivata. Quindi uno può avere anche delle caratteristiche poi nella singola partita e io sono d'accordo anche sul discorso che dice Luca sull'approccio si sta cercando di far sembrare questo derby che sembra la finale di Coppa Intercontinentale. Una partita che ha significato... Il Milan dia fastidio perdere ancora l'ennesimo derby. Sì però gli dava fastidio perdere il campionato. Ma gli dava fastidio perdere il campionato. Oppure io ho sempre detto per il Milan il finale di stagione lo decide l'Europa League se la stagione finisce in modo positivo o no. Non il derby che non ribalta relativamente. Ragazzi stiamo parlando di calcio, i tifosi non è che nel calcio ci sono cose serie e cose meno serie. Il calcio è sfottato tra tifosi. Sai se ti devo trovare una cosa che può influire sul Milan in positivo per cui può contare questo derby e il fatto che se tu perdi male questo derby l'anno prossimo tanti giocatori resteranno e partono con questa cosa che l'Inter è più forte. Se invece tu vinci con l'Inter che è campione poi d'Italia magari inizi a invertire questa cosa inconscia e puoi pensare... Però secondo me... Se vinci la partita giocandola bene... Marcello però secondo me... Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Michele. Nel senso credo che il male se così vogliono chiamarlo del Milan sia più atavico rispetto a dire entriamo in campo con il coltello fra i denti. Cioè nel linguaggio del corpo dei rossoneri contro la Roma si è vista una squadra svuotata e non credo che abbiano affrontato un quarto di finale d'Europa League. Tutte e due le partite tutte e due le partite andate e ritorno si è vista svuotata e anche col Sassuolo anche se hanno fatto 3-3 e secondo me con la partita il Milan la doveva vincere 4-3 perché gli hanno rubato un gol che c'era. Il fuorigioco di Ciucuezze me lo devono ancora far dimostrare ancora oggi. Quindi con la partita l'hanno... Quella è la cosa... Quando noi discutiamo del VAR tu mi devi dimostrare che Ciucuezze è il fuorigioco. Non mi puoi far vedere un puntino. Il puntino non me ne frega niente. Il fuorigioco è che lui prende un vantaggio sull'avversario. Questa è la regola. Se poi abbiamo stravolto anche questo è un altro calcio. Però lì dovevano vincere. Però l'atteggiamento ritornando alla domanda che hai fatto l'atteggiamento era questo. Io però sul derby di lunedì di domani ti dico che non è che può sempre perdergli in Milan sti derby. Magari uno lo pareggia. Cioè per le statistiche anche no? Ti dice anche solo per la legge di gradi. Lo gioca anche in casa. Sicuramente un periodo delicato. Milan che sta cercando un accordo con Pioli perché ha ancora un anno di contratto all'allenatore rosso-nero e come diceva Luca vuole concludere il Milan con questo allenatore quasi cinque anni di convivenza in maniera adeguata. Cinque anni comunque però il loro file di Pioli è comunque ammirabile sempre. Sì sì ci sono i presupposti per chiuderla in maniera dignitosa secondo me da ambo le parti. Parliamo di Inter perché c'è questa notizia che vorrei ci desse bene Michele verrà pagata OCTRI quindi OCTRI via dalla storia dell'Inter c'entra per un altro fondo che rifinanzia il debito di fatto. Sì che è sempre quello che era l'intenzione di Zanghi io mi ricordo una volta poi noi parlavamo con Marcello che quella discussione spiega un po' perché non va avanti OCTRI perché giustamente Marcello quella volta diceva ma mica gli danno di nuovo altri tre anni e ma mica lo stesso tasso interesse e mica con le stesse garanzie di prima e ma mica allora a quel punto siccome c'erano tutti questi questi diciamo paletti perché anch'io quel giorno dissi lui vuole tre loro dicono uno poi però un altro paletto era facciamo un percorso insieme per arrivare alla vendita a quel punto diciamo Zanghi ha provato già la volta scorsa c'erano stati degli abboccamenti con altri con altri fondi non era questo che è venuto fuori ieri praticamente PINCO che è sempre californiano ma erano uno anglosassone altri due anche sempre negli Stati Uniti insomma alla fine con questa operazione ovviamente l'operazione deve essere ancora conclusa quindi poi ci sono alcuni dettagli che ovviamente rimarranno molto riservati come era nell'altro accordo di tre anni fa però diciamo questa operazione permetterà a Zang di avere un lasso temporale medio medio per poter continuare ad andare uno verso il pareggio di bilancio che credo si raggiungerà col mondiale per club quindi non nel 24-25 ma nel 25-26 col settlement agreement firmato con la UEFA provare a portare a termine una firma sul progetto stadio di che durata dovrebbe essere dovrebbe essere di nuovo triennale un altro debito triennale però io credo che qualcosa succederà diciamo a metà di questo triennio cioè dopo il mondiale per club oppure qualcosa può succedere può succedere anche sempre da un momento all'altro nel senso l'interesse di un qualcuno che capisce che l'interlocutore se qualcuno aveva pensato che potesse essere il fondo invece capisce che l'interlocutore è Zang e quindi fare un'offerta che possa anche essere quella ritenuta congrua da Zang perché fino ad oggi l'unica due diligence era stata fatta tre anni fa da BC Partners ma si parlava di 800 milioni e Zang c'è non recupero perché poi e qual è l'offerta congrua secondo te? e l'offerta congrua è quella che fa uscire Zang senza perdite magari anche con no facciamo delle cifre e le cifre sono lui è arrivato perché poi devi fare al netto del debito finanziario quindi quelle da tenere da tener conto quindi fai un 300 milioni e passa se consideriamo solo il debito finanziario poi devi tener conto dei soldi che lui deve restituire a questo punto diventerebbero 400 400 e passi più interessi a seconda di quanti anni passano più devi mettere che lui ha messo comunque in to con gli interessi sono 500 più c'hai ancora un bond da rimborsare potrebbe arrivare su 500 considera che senza considerare gli sponsor ma solo quelli che ha messo sono circa 700 milioni quindi secondo me l'aspirazione è che arrivi un'offerta intorno al miliardo e 3 miliardo e 4 ma secondo me non è impossibile se l'Inter continua anche dal punto di vista del brand a fare bene quindi magari a portare a casa dei trofei nel prossimo anno o biennio firmi il discorso dello stadio quindi il progetto stadio che sia sicuro anche se poi inizierà un altro interlungo secondo me non è impossibile avere un offerto il Milan è stato è vero con una situazione debitoria poi ripulita un po' diversa però voglio dire il Milan è stato venduto a 1 miliardo e 100 più o meno secondo me con 2-3 anni nel calcio di oggi ti possono portare anche l'Inter a valere quel miliardo e 2 miliardo e 3 però la situazione debitoria del prestito perché poi sono soldi che dovrai ridare secondo me complica un pochino l'eventuale aspirazione come pure prima dovevi ridarli questi sono soldi della controllante dell'Inter quindi non è sempre più soldi che tu devi sempre ridare cioè tu hai fatto un debito nuovo è molto più pesante per pagarne un altro vecchio che ha debito su debito anche tu anche tu Michele potresti diventare proprietario dell'Inter se tu avessi la fiducia di determinate parte fondi coi prestiti lo potresti fare anche tu il presidente perché tanto tu paghi tu paghi tu continui a pagare anche i creditori con i nuovi finanziamenti che ti fai dare poi con i soldi dell'Inter paghi praticamente gli interessi e tu sei a posto no perché per diventare presidente dell'Inter oltre a comprarla ti stavo dicendo prima senza contare le sponsorizzazioni hai investito 700 milioni se metti le sponsorizzazioni arriviamo a 900 però poi devi fare un lavoro quindi creare una struttura che permetta ai ricavi di aumentare se tu trovi il fondo oggi quest'altro fondo dopo OCTRI non è che ti fanno la beneficenza è perché pensano che si possa arrivare poi a far quadrare il cerchio di un'operazione nessun fondo fa beneficenza perché tu adesso ne fai 400 per tre anni ma alla fine ne vengono magari 500 Marcello OCTRI aveva dato 275 milioni sono un centinaio di milioni di interessi ma di quei 275 milioni non erano stati messi nell'Inter tutti erano stati messi 150 perché se no adesso si fa dare 400 milioni li da tutti OCTRI e rimani di nuovo a zero se ti serve qualcosa sono pochi no sto dicendo che comunque l'Inter va sempre di più verso quello che ha fatto il Milan il pareggio di bilancio se tu sei a pareggio di bilancio non hai bisogno di mettere soldi la differenza la differenza che c'è sì ma la differenza che c'è tra un proprietario come Zhang un proprietario virtuale come Zhang non è virtuale e uno effettivo come Elkan Elkan ti mette 900 milioni suoi ne ha messi di più Zhang in questi otto anni Marcello ne ha messi di più ma la Juve non ha dovuto chiedere prestiti è questo il discorso ho capito ma perché è illegale fare un finanziamento no ma non è una questione di legalità è camminare sui carboni ardenti mi pare evidente e di futuribilità se fai un debito su debito cammini su carboni ardenti cioè non hai una stabilità come può essere quella di Exor con John Elkan mi pare evidente intanto hai una programmazione di un triennio e questi sono otto anni intanto dove l'Inter era fuori addirittura dalle coppe europee era settima ottava e nona adesso è stabilmente in Champions League e in Italia anche prima se tu continui con una stabilità economica da trovare ma soprattutto di prestazioni sportive una struttura che ha creato oggi stavamo parlando al Milan chi prende la decisione lui sta cercando soltanto che gliela compra al prezzo che dici tu che al prezzo che dici tu ma non è banale è da trovare che non è possibile che io continuo a fare prestiti su prestiti e debiti su debiti ma non è possibile infatti un giorno quando non sarà più possibile perderà l'Inter Zang e poi è chiaro che ti arrestano se arrivi mi dice il volo cosa ha detto in Zaghi in conferenza stampa ma sì se c'è qualche concetto sì che comunque è una partita che non conta diciamo come potevano contare quello che stavamo dicendo anche noi prima che però sicuramente la squadra farà di tutto per comunque era più un clima almeno da quello che ho letto di esaltazione e celebrazione di quello che è stato il titolo campionato dominato l'attezza sta per finire siamo pronti a vedere il panorama sì perché nel senso un percorso che è stato fatto ha nominato anche le delusioni perché gli è stato anche chiesto il percorso che è stato fatto la struttura dirigenziale in Zaghi è molto umile secondo me perché ogni volta che parla e gli danno dei meriti lui mette davanti la struttura societaria la squadra che è cresciuta il suo staff i tifosi che insieme ti portano anche a questo obiettivo a me è un approccio che piace dice scontato no perché l'Inter l'ultima volta che ha vinto lo scudetto c'era l'allenatore che aveva detto lo dedico a me stesso quelli che sono a lavorare nell'ufficio ma sono noi adattiamo la situazione di un anno fa come? in Zaghi si ricorda anche la situazione di un anno fa dove era fortemente in birico era stato messo sotto pressione con grande pressione quindi è chiaro che si arriva a vincere uno scudetto dopo aver ottenuto la fiducia aver fatto un'annata fino adesso quello che dicevi tu prima sul discorso della continuità oggi proprio quello all'Inter si può fare perché c'è lo stesso staff tecnico che adesso andrà a rinnovare la dirigenza è a 2027 ognuno sa che cosa fa nella società con il nuovo e la squadra ha una base che cresce soprattutto la dirigenza tecnica deve sapere proprio in virtù di quello che hai detto prima finanziamenti eccetera attenzione a su lei scusate ragazzi ci devono essere posti e ricavi ci deve continuare quello per tutti lo so però continuare in questa direzione per altri tre anni in questa direzione ma questo vale per tutti con la differenza che l'Inter non deve fare granché all'interno di esborso poi Marotta è brevissimo la parte esportiva va scissa dalla parte finanziaria non si possono unire le due cose se no facciamo un discorso che non è corretto l'Inter a livello manageriale viene condotta bene l'allenatore sta facendo un bel lavoro la squadra è forte punto e l'archiviamo poi c'è il discorso Zang che guarda a caso è il proprietario dell'Inter è quello che paga gli stipendi paga i fornitori paga tutto quello che serve ma si paga con i ricavi del club Marcello esatto quindi i costi e i ricavi sono fondamentali ma anche la Juve paga non è che John Elkan stacca gli assegni sono fondamentali sono i ricavi del club con i soldi di Elkan con i soldi di Elkan il povero Dunfri se ne ha fatto le spese perché non è potuto entrare in macchina ha dovuto parcheggiare fuori entrare a piedi perché erano talmente tanti i tifosi davanti ai cancelli di Piano Gentile poi la squadra è addirittura uscita ha fatto un saluto alla curva ai tifosi che era lì ad incitare c'è aria di vigilia di una serata che potrebbe essere a suo modo storica per l'Inter cioè a te da interista interessa vincerlo Scudetto punto o comunque vincerlo nel derby col Milan avrebbe un significato particolare ma entrambe le cose è ovvio che è inutile farsi mancare qualcosa a prescindere sarà una festa e questa è la prima cosa che mi piace ricordare perché ci hanno provato a sminuire un po' tutti questo cammino dell'Inter queste vittorie mettendo di mezzo un po' tutto dai conti del non a posto dal fatto che praticamente che non conta niente questo discorso ma cosa vuoi che conta l'unica cosa che conta è che domani si realizza il sogno secondo me ci sono tutte le possibilità affinché l'Inter possa vincere la seconda stella proprio in casa del Milan quindi sesto derby consecutivo vinto? ma di solito Pioli quelle partite non le sbaglia per cui no infatti è per quello che dico quindi parto da questa base non le sbaglia nel senso che non le vini sì sì nel senso che da cuore nero azzurro perché Pioli è il grande tifoso dell'Inter sinceramente potrebbe farci un assist però posso dire una cosa secondo me invece molto molto bella perché ho assistito a un'intervista doppia fatta ai capi della tifoseria del Milan e dell'Inter e mi è piaciuto moltissimo l'approccio con il quale tutti stanno vivendo questo derby e il fatto che i tifosi dell'Inter e del Milan siano da sempre attenti a non a non infierire uno contro l'altro in maniera esagerata e il fatto che ci sia questo rispetto oramai da tempo fa sì che sia una partita speciale che sicuramente nessuno dei tifosi del Milan vuole perdere è ovvio ma è anche vero che c'è di base il clima giusto per vivere una partita importante come quella per cui io mi auguro davvero che domani andrò allo stadio e sia una partita storica perché di solito l'Inter ha questo nel DNA che magari fa anche delle sconfitte epiche ma poi vince in un modo che ripaga sempre di tutto quello che ci ha fatto passare però visto che prima hai parlato tu di errori arbitrali della Marotta League e tutto l'hai tirato fuori tu quindi un fondo di verità ma io semplicemente dicevo quello che ho sentito dire a oltranza parli di scudetto e dici però non ci interessa la questione economica come non vi interessa ma stiamo risolvendo pure quella mai visto adesso risolvendo parliamo insomma però vabbè nonostante i gufi ragazzi vinceremo lo scudetto la mia domanda e il Zag continuerà a mantenere l'Inter rispondimi ma chiedete un prestito anche per il pulmono scoperto? ma sì tanto a pagare cioè siamo sempre in tempo la cosa che mi fa strano di tutti quei per pagare per morire c'è sempre tempo ma poi la cosa che mi fa strano che se tu fermi le persone sono dei debiti che camminano perché non ne conosco uno che non abbia il debito per il mutuo per la macchina per andare in vacanza ecco tutti sono debiti e fanno sempre le verginelle dopodiché si parla di uno che spende i soldi come il presidente dell'Inter non per andare a giocarseli al casino ma per investire sulla squadra per dare comunque trofei a questa squadra e ogni volta c'è questo non so ma non sono più suoi i soldi ma chi se ne frega ma li pagherà e se non li pagherà gliela porteranno via nel mentre forza Inter vai così va bene va bene la conclusione alla fine è quella giustamente però comunque questa stella secondo me ha sempre l'asterisco sempre allora fatene una ragione vinto con 15 punti dalla prima ma quello è un piccolo rimborso non rientriamo non rientriamo sempre a parlare di queste cose infatti infatti lasciamo perdere godiamoci la doppia stella voi ce l'avete già da 15 anni che cosa ve ne frega no 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 dall'81 eh dall'81 ahimè vedi e quindi lasciateci godere in pace questa vittoria meritatissima quest'anno davvero bisogna fare i complimenti alla squadra e a mister Inzaghi a tutta la società io non vedo l'ora di festeggiare e magari ci sentiamo domani sera non ce l'hai una foto di tuo nonno nell'81 quando ha vinto la seconda stella come quando ci fece vedere quando avevi vinto il terzo scudetto come il Napoli adesso te la cerco questo dunque Simone Inzaghi dice giustamente non è un'ossessione perché non può essere un'ossessione però effettivamente tutti quanti ci terrebbero molto curva compresa oggi se non sbaglio uno degli slogan era andate a vincere lo scudetto in casa del nemico ed entrerete nella storia un concetto del genere insomma è anche abbastanza normale da questo punto di vista con tra l'altro poi ne parleremo anche diffusamente dalle 20-30 in avanti le parole di Zang che confermano la sua partecipazione all'Inter confermano Inzaghi che andrà verso il rinnovo cioè alla fine l'impressione Mario è che in qualche modo sia l'inizio di un percorso che l'Inter ha già iniziato l'anno scorso arrivando in finale di Champions League e che quest'anno trova il suo culmine con questo scudetto ma sicuramente qualche rammarico nonostante tutto per l'uscita in Champions rimane perché poi alla fine è stata una partita un po' stregata quella si sono sbagliati tanto i gol nell'andata e ahimè un po' pesa il fatto di essere uscito malamente con il Bologna in Coppa Italia e anche malamente altrettanto con l'Atletico ai rigori resta il fatto che in realtà Inzaghi da tre anni a questa parte sta facendo un percorso incredibile perché ha portato la squadra innanzitutto a vincere trofei e poi anche a giocare molto bene che è una delle cose che solitamente non veniva attribuita al gioco dell'Inter per cui vedere in campo una squadra come questa dove i calciatori sanno perfettamente cosa fare come muoversi e soprattutto vedere diciamo il contributo che stanno dando tutti a partire da chi scende in campo per finire alla panchina dove tutti si sentono titolari e tutti sono importantissimi questo secondo me è la novità vera di una squadra come l'Inter che tra l'altro per la prima volta e mi sento di dirlo davvero dopo tanti anni è fatta da calciatori che amano non soltanto la squadra ma anche la maglia per cui in un'epoca nella quale non ci sono più le bandiere diventa anche difficile avere calciatori che per tanto tempo fanno parte della stessa squadra all'Inter devo dire che ci sono ragazzi calciatori che dimostrano di essere attaccati alla squadra non soltanto con le chiacchiere ma anche con i fatti per cui è inutile che sto qua a ripetere chi sono Marco, Bastoni Barella Lautaro Cialanoglu sono tutti calciatori che sembrano nati cresciuti non hai sentito quello che ha detto Paolo? no non l'ho sentito ma è meglio così mi sa citavo Skriniar che sicuramente sarebbe rientrato in questo libro cuore ma no Skriniar secondo me ha fatto delle scelte e poi il destino ha parlato per lui perché tutti quelli che hanno fatto queste scelte negli ultimi tre anni non hanno fatto una bellissima fine e ci metto dentro da Lukaku a Skriniar a tutti quelli che hanno fatto i fenomeni e quindi e che hanno voltato le spalle all'Inter ma diciamo che l'hanno voltata al loro futuro perché stare qua in questo momento è sintomo di tranquillità serenità bel gioco divertimento e i soldi non sono mai mancati nonostante quello che si dice di Zhang però Lukaku una Coppa Europea se la può ancora giocare a differenza dei diciamo e ma ripeto secondo me ha perso tanto perché essere il numero uno di una squadra come l'Inter e in quel momento ad esempio Skriniar lo era era il capitano e per diventare il numero X di una squadra inutile cioè per quanto mi riguarda io sono d'accordissimo con te dico che tutti questi giocatori che hai citato te davanti a un'offerta differente magari le offerte sono già arrivate a Bastoni sono già arrivate a Barella sono già arrivate a Lautaro ma hanno tutti scelto di fare un percorso ma da chi sono arrivate già due anni che cercano di portarci via calciatori che squadre sono cosa hanno offerta all'Inter guarda non le voci io parlo di offerte vere no no offerta vera se non mi sbaglio c'è stato 60 milioni che poi sono diventati gli 80 offerte al Milan per tonali ma lì Barella aveva rifiutato ad esempio per dirne una quindi la cosa che mi piace davvero è che anche stando sugli spalti tutto quello che racconto non c'è bisogno di stare all'interno della società per viverlo perché davvero il modo in cui si allenano il modo in cui scendono in campo il modo in cui festeggiano oppure si dannano l'anima nel momento in cui non vincono o perdono quindi tutte queste cose fanno capire che Inzaghi ha costruito insieme alla società fortissima uno spogliatoio meraviglioso e sinceramente all'inizio di quest'anno tutti parlavano di un'inter indebolita di un'inter che aveva perso calciatori fortissimi e che quelli che sono arrivati non erano all'altezza e in realtà se non fosse per l'inciampo in Champions League l'inter ha dimostrato di essere una super squadra e di giocare ancora meglio Mario lo sai che mi hai commosso cioè veramente mi hai toccato il cuore perché questo quadro così roseo così tutto bello ma questa è cronaca io dico quello che succede non è che cronaca e poi c'è una parte di cronaca che però in questo momento dell'inter non puoi fare proprio cronaca questa è cronaca sventitemi quello che ho appena detto cioè il clima che si respira è quello hai raccontato una squadra che sembra che ha vinto 15 competizioni è uscita dalla Champions League malino l'ho appena detto è uscita dalla Coppa no capito però hai detto è una squadra fantastica amore cuore ma è una squadra fantastica è una squadra che ha vinto tre trofei in Serie A è tutto giusto quello che hai detto in Serie A è tutto giusto però poi ma io ho fatto una premessa che io ho rammarico ancora oggi per l'uscita in Coppa Italia con il Bologna è successo perché lì qui non è trofeo la Champions no vabbè ma già quella mi aveva dato fastidio perché c'è modo e modo di uscire da una competizione già con l'Atletico se non fosse per la gara d'Antata alla fine non hai perso sei uscito ai rigori però quella lì sì però quella lì te la puoi fare anche andare giù perché in quel momento il Bologna giocava un calcio straordinario ancora più di quello no ma non in quella partita vabbè però te l'ha imbrigata bene perché alla fine ti hanno fatto un 1-2 che ti hanno lasciato veramente senza fiato secondo me non è tanto il problema della Coppa Italia lì è come sei uscito dalla Champions arrivando privilegiando il campionato per volerlo stravincere perché c'era l'obiettivo la seconda stella vincerlo nel Dello ma la Juve era veramente si è arrivato con un pochino di fiato beh ma la Juve mentre è stata fatta quello che ti serviva anche in Europa era attaccata all'Inter e sembrava non volesse mollare infatti il campionato è stato molto bello nella doppia sì quello sì però nella doppia sfida prima della doppia sfida con l'Atletico Madrid l'Inter aveva già stravinto il campionato sì ma con l'Atletico Madrid qualche giorno prima anche la trasferta di Bologna anche le partite precedenti forse qualche scelta diversa in campionato e arrivare un pochino più sereni nella partita di Champions ma col senno di poi hai ragione non è che posso dire di no ma io ricordo benissimo quel momento storico e ti dico anche che contro l'Atletico Madrid avremmo potuto fare due o tre gol comodamente se non fosse che si è sbagliato un po' troppo e ripeto la gara del ritorno non è stata una gara dove hai demeritato a tutti i costi e l'Atletico invece ha meritato l'Atletico fino a cinque minuti dalla fine era fuori da tutto abbiamo preso un gol veramente in un modo stupido e poi alla fine si è arrivato ai calci di rigore per cui questa è cronaca non è che mi invento nulla ripeto fa male perché comunque dispiace ma adesso è il momento di gioire è il momento di festeggiare la seconda stella sinceramente è un traguardo meraviglioso io l'ho attaccata sulla mia macchina ad agosto di quest'anno per cui anzi dell'anno scorso e quindi ci credo ed è quello che voglio stasera piove si scioglie no non si scioglie l'ho messa col cemento armato che macchina purtroppo non si può dire magari facciamo promozione che macchina eccoci quindi noi insieme allora parliamo dell'Inter che è un passo dal traguardo il sogno è quello di vincere il derby e vincere automaticamente anche lo Scudetto oggi bagno di folla da piano gentile centinaia di persone che sono arrivate alla pinettina la squadra che poi a un certo punto è uscita per andare a salutare i tifosi Riccardo a te come dire sei più del partito che l'importante è portarlo a casa lo Scudetto o ci tieni particolarmente a vincerlo domani per il significato simbolico che avrebbe vincere nel derby è chiaro che lo Scudetto è importante vincerlo e credo che ormai il più sia fatto hai la possibilità di fare questa di fare questa cosa cioè di vincere lo Scudetto in casa del Milan questo sicuramente è un'occasione che hai più che altro per noi tifosi sappiamo benissimo la squadra come prepara questo tipo di partite c'è la tranquillità cioè hai in testa il problema sai che prima o poi arriva e quindi secondo me domani possiamo fare una grande partita perché ripeto liberi di testa a differenza di quelli che avremo di fronte che qualche problema in più ce l'hanno credo che possa compersi questa questa impresa questa questa buttada per i tifosi ecco però l'importante è appiecicarselo sul petto certo che dire credo che il più sia fatto sei peggio di me quando dico non sono ancora sicuro di andare in Champions se non è domenica sarà col Torino se non è col Torino è a Frosinone cioè non credo che ci sia non è che in quella partita di domani sera c'è un Inter iper motivata secondo me perché questa cosa di vincerlo davanti al Milan credo che sia uno stimolo che non ha uguali però di contro io mi auguro ci sia un po' di orgoglio e invece io temo che dall'altra parte ci sia una specie di rompete le righe e poi parleremo del Milan perché è un tema assolutamente delicato io questa cosa credo che Gianni Gisce giustamente sarebbe successa secondo me in entrambe i casi no ma al di là del piano tecnico che in questo momento l'Inter è più forte del Milan quindi al di là di questo io temo che ci sia proprio anche questa cosa la botta di giovedì con le parole poi di Pioglio oggi insomma c'è sicuramente una squadra sulla gratticola cioè quando un allenatore ha sei partiti dalla fine di fatto è stato esonerato diciamola tutta cosa vuoi che vada a raccontare alla squadra? no 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 però devo dire parlando di anche di Inzaghi oggi ha parlato finalmente di questa montagna che si scavalca di questa collina che si arriva in cima e che si vede il panorama diceva la frase oggi ha parlato mi sarei anche fermato al finalmente visto che una conferenza stampa per la Serie A credo che non la facesse da tre mesi penso vabbè però aggiungiamoci anche al resto sì questo io non sono d'accordo loro dovrebbero parlare tutte le settimane perché come se il tifoso vuole un riscontro dall'allenatore delle bicistudine settimanali detto questo speriamo la formazione è praticamente quella tipo certo e quindi speriamo di fare festa anche se poi comunque tutto il programma vivrà di festeggiamenti anche successivamente tu hai preso ferie per no io prendo ferie nel momento in cui si festeggia durante la settimana ma credo che un po' la situazione sì ma domani sera domani martedì già fatto richiesta si è smentito dovrei prendere 15 giorni di ferie perché c'è no scusa no ci sono una serie di programmi interessanti chiedeva scusa chiedeva a Morina adesso forse non avete sentito fuori onda mi tiro il cellulare a Morina giuro perché adesso lo so cosa chiede no ha chiesto ma il presidente viene ecco l'hai visto no è pertinente come domanda il presidente come sappiamo per problemi personali non può uscire dalla Cina abbiamo sfatato un mito che è quello del galera degli arresti domiciliari beh però il fatto che non possa uscire non è una bella notizia è un problema poi parleremo anche di Zango perché sono arrivate notizie dalla Cina sto vedendo Massimo che si avvicini abbiamo parlato abbiamo parlato fino a mezz'ora fa che i presidenti molte volte possono fare dei danni all'interno della società vedi della laurea ah quindi la vedi come nota positiva no però non è questo il problema Zangak con Suning e con la con la dirigenza nazionale ha creato una società che può anche andare avanti mi sembra di averlo dimostrato senza presidente ripeto sono problemi personali di cui non entriamo nel merito non credo che sia fondamentale ah beh il presidente se non è fondamentale la figura del presidente chi era il presidente quando ha vinto il Milan lo Scudetto era Elliot e chi era la persona che ha nessuno beh c'era un signore c'era una presidenza c'era una presidenza con ausilio affidata a un manager che si chiamava Gazzidis e a un dirigente che si chiamava Paolo Maldini questo è un dato di fatto insomma la bontà del lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti in alcuni casi Massimo si fa sempre quando le squadre non vanno bene quanta colpa ha l'allenatore quanta colpa ha la dirigenza quanta colpa ha i giocatori proviamo a ribaltare nel caso dell'Inter quanto merito ha l'allenatore quanto la dirigenza e quanto i giocatori in percentuale ma allora secondo me in questa in questa graduatoria ma io sai io poi ho ho un mio parere personalissimo su questo allenatore per me che ha sempre messo a disposizione di tutti gli allenatori scusa Massimo ha raddoppiato l'Atalanta ha segnato Elbilal Touré premiata dunque la scelta di Giampiero Gasperini di schierarlo dal primo minuto ha scambiato in contropiede con Lucman dunque secondo gol in campionato per Touré dopo la rete di Genova contro il Genova minuto 72 l'Atalanta forse alla svolta definitiva della partita soddisfatti padre e figlio per Cassi in tribuna e Lucman va a scuotere in maniera positiva Touré che forse l'abbiamo presa bella azione soprattutto premiato Touré perché Lucman a un certo punto può essere ingolosito a rientrare sul destro e calciare sul secondo palo può servire Copminers invece serve Touré che gli aveva dato il pallone buco un po' difensivo del Monza 2-0 dell'Atalanta 2-0 dell'Atalanta prego Max io penso che la dirigenza ha lavorato benissimo ha lavorato benissimo perché ha una proprietà insomma molto complicata e quindi deve gestire tantissime cose e quindi io credo che ognuno nel proprio campo cioè Marotta e Ausilia hanno fatto delle cose straordinarie in questi anni mettendo sempre a disposizione dei propri allenatori quindi non parlo solo di Inzaghi parlo anche di Antonio Conte delle squadre molto competitive non dimentichiamoci che il primo anno di Conte l'Inter è arrivata a seconda ed è andata in finale di Europa League il secondo anno ha vinto lo Scudetto ma dati i meriti ad Antonio io credo che ci sia sicuramente stato del materiale importante su cui lavorare Lukaku che era stato preso a 65 milioni poi sono stati bravi a rivendolo a 110 a 120 a Kimi quando si è stato detto ma ma Kimi hanno fatto spendere 30 sì poi però l'hanno venduto a 65 se avessero venduto Bastoni e e e Barella dopo i primi due anni di Conte avrebbero non solo ripreso i soldi ma avrebbero eh avuto delle super plus valenze su questi due giocatori quindi vuol dire che la società ha sempre lavorato eh mantenendo i conti a posto e sicuramente eh quindi facendo un po' una gara un po' ostacoli con la proprietà eh però mettendo a disposizione i propri allenatori delle squadre super competitive per me quest'anno l'Inter era super competitiva anche per la Champions eh ed era super competitiva l'anno scorso ed era super competitiva eh due anni fa quando poi ha vinto il Milano quando poi ha vinto il Napoli quindi per me non ti non voglio dire che Inzaghi non ha meriti ha sicuramente dei grandi meriti è sicuramente un allenatore che è miglioratissimo da quando è arrivato all'Inter però onestamente eh quest'anno aveva una super squadra sia come organico sia come profondità di organico eh Ricky no sì ha ragione io credo che il merito di Inzaghi sia anche ci ricordi al fatto che comunque l'Inter ha giocato un buon calcio perché poi lo sa meglio di me anche Massimo che ha giocato avere tanti giocatori forti non vuol dire necessariamente poi giocare bene prima Massimo quando parlava dei problemi di Allegri con la Juve diceva che il tutto è partito un anno e mezzo fa io credo che il tutto sia partito sempre per merito di Marotta un anno fa quando Inzaghi in campionato andava in modo pessimo e in tanti si diceva che rischiava il posto l'ha detto anche Marotta sì però alla fine la società è stata brava a non esorerare il tecnico in tempi morattiani Inzaghi molto probabilmente oggi non sarebbe la natura dell'Inter quindi credo che qui sia stato il merito suo si dimentica un nome secondo me in fatto di lavoro di societario perché purtroppo è chiaro che ci sono stati dei problemi di salute Ericsson sarebbe stato un altro grande colpo che avrebbe fatturato qualcosa in più all'Inter e questo chiaramente ragionandosi i parametri zero hanno costruito una rosa competitiva quest'anno per assurdo perché non è un segreto l'Inter che partiva è vero favorita ma non in assoluto perché si diceva che perdendo Dzeko perdendo Lukaku perdendo Screña perdeva dei numeri importanti è riuscita comunque a trovare il suo e a creare un gruppo che secondo me è stata la cosa più importante poi l'Inter quest'anno ha anche giocato delle ottime partite quindi devo dire che alla fine è uno peccato per l'uscita delle Champions diciamolo sì quello è un rammarico anche lì poi vanno fatte delle valutazioni sul fatto magari si diceva già dall'inizio posso dirti però Riccardo che sulla situazione Champions onestamente io mi aspettavo che l'Inter facesse qualcosa di più anche dal punto di vista del gioco perché io credo che i gironi per cui poi è arrivata seconda non li ha giocati benissimo il girone diciamo di qualificazione agli ottavi insomma ha giocato molto meglio la squadra spagnola e secondo me un po' lì un po' mi ha deluso l'Inter da quel punto di vista io mi aspettavo tra le altre cose insomma l'Atletico Madrid poi si è visto non era una squadra impossibile era una squadra sicuramente complicata ma come avevamo detto più volte qui l'Inter aveva un centrocampo che abbiamo paragonato addirittura a quello del Manchester City o a quello del Real Madrid no no tutto vero io credo che per assurdo ma è una statistica numerica Inzaghi ha fatto turn over nel girone di Champions piuttosto che in campionato e questo sicuramente ha influito sul rendimento della squadra stavo dicendo con l'Atletico Madrid siamo arrivati un po' lunghi perché fuori Turam che non era il meglio con Lautaro un po' stanco avere avuto un'alternativa come Arnautovic che ha avuto seriamente dei problemi anche lui quest'anno è stato sicuramente un difetto non dimentichiamo che secondo me la qualificazione dell'Inter la butta via l'andata quando giocò un'ottima partita e Arnautovic si mangiò due gol davanti al portiere quindi è vero che la Champions vede gli episodi siamo stati eliminati i legori non è che abbiamo subito chissà che cosa in un contesto come questo chiaramente il ramarico c'è perché per assurdo senza mancare di rispetto agli altri potevi usare il campionato per allenarti per la Champions però alla fine arriva un trofeo che credo che sia una cosa importante per una serie anche di operazioni di marketing ragazzi due minuti due minuti due minuti restiamo a parlare di Inter ascoltiamo ancora Inzaghi ci sono le parole di Zhang direttamente dalla Cina tantissimi altri argomenti e poi ovviamente affronteremo anche il tema Milan questo dunque Simone Inzaghi evidentemente aveva la sensazione che fin dall'inizio nonostante fossimo reduci da un campionato dominato dal Napoli da un Inter che aveva perso elementi importanti come Geku e Lukaku eppure le sensazioni che lo avvertiva fin dal ritiro dice erano quelle giuste non so se lo dice adesso perché ormai ha vinto lo Scudetto io credo che quel trittico lì Roma-Fiorentina Juve tra gennaio e febbraio è stato decisivo per lo Scudetto perché comunque la Juve era un punto è vero che Ezio diceva che il miracolo era l'opposto però lo sai benissimo che giocando da favoriti come era l'Inter avere una Juve a un punto a livello mentale poteva dare dei problemi però credo che col gioco con le motivazioni con giocatori che comunque sono di un'altra categoria perché l'abbiamo detto tutti sia arrivato questo titolo ecco poi bisognerà confermarlo nel tempo bisognerà vedere spero di non fare la fine del Napoli nel senso c'è questo espluat che sicuramente sarà difficile da ripetere però l'Inter ha già messo dei tasselli importanti per la prossima stagione quindi non cambierà l'allenatore quindi molto bene partirà davanti anche l'anno prossimo e qui si cercherà di fare un ciclo con Simone Zaghi ecco questo è l'augurio del tifo hai detto bene confermarsi non è mai facile pensa per nove volte è difficilissimo ma può cadere può cadere se poi ci confermiamo per nove volte beh siete la squadra da battere il prossimo anno quando siete la squadra da battere diventa sempre tutto più difficile però bisognerà vedere avete sicuramente delle prospettive importanti perché avete già ipotizzato mettere le mani su alcuni giocatori che saranno importanti bisognerà vedere chi dovete vendere per il bilancio ma ad oggi non risultano come l'anno scorso perché qualche gioiellino di famiglia secondo me parte oggi non arrivano notizie su cessioni di gioiellini a meno che non arrivi l'offerta da irrinunciabile mi viene in mente ma questo per tutti vale certo per Lautaro ti offrono 60 milioni non glielo dai ma se te ne chiedono 80 magari ci pensi io credo che oggi se proprio vogliamo fare fantamercato e tu mi chiedi ricordo che Lautaro non ha firmato io credo che se tu mi chiedi oggi hai paura di perdere qualcuno io ti dico bastone per me non lo ritieni un gioiello di famiglia no però ti arriva l'offertona che non può rinunciare ma questo non può rinunciarci il Milan non può rinunciarci la Juve eccetera ma non è che vendi perché devi stare in piedi sto dicendo questo però il fatto che cerchiate due attaccanti anzi di fatto ne viate preso uno sicuramente a parametro zero e l'altro è quello del Genoa credo che mi fa pensare che Lautaro possa essere uno di quei gioielli di famiglia che se arriva l'offertone sono i rinunciabili lo spedite allora secondo me con tutto il rispetto non sono giocatori se tu hai paura di perdere Lautaro che vai a prendere per stati dire Lautaro cioè se parte Lautaro devi prendere un altro tipo di giocatore che non è Gudmusson che non è Taremi però mi pare che sia un giocatore è un 31enne che viene dal porto è uno che sa fare il suo mestiere secondo me ripeto oggi l'Inter non ha a differenza di altri anni necessità di vendere nessuno per stare in piedi poi a proposito di questioni societarie tra un altro lo devo ascoltare anche Zanga io credo che oggi se tu mi dici se tu mi dici oggi giocando di mercato oggi secondo me quello più appettibile in Europa è bastone è bastone con questa voce del Real Madrid che si sarebbe interessato al terzino dell'Inter vai Massimo no posso però dire una cosa perché secondo me visto che abbiamo parlato prima di Allegri e ieri sera ne abbiamo parlato per due ore e mezza io gli ho anche scritto gli ho detto Max abbiamo fatto uno speciale Allegri ieri su questa televisione no volevo dire una cosa ti ha risposto? ma certo che mi ha risposto ma infatti no no vado a cena con lui appena torno da qua ci vediamo a Torino e sono a cena con lui e con Luca Pagliuso che è il suo ex presidente che è il primo presidente con cui lui ha fatto un contratto da allenatore professionista alla spalla e si ricorda ancora che gli ho fatto avere il vito all'alloggio oltre che diciamo così l'emolumento l'emolumento da prestazione da allenatore ma detto questo sono stato il primo procuratore a fare il contratto ad Allegri detto questo poi io l'ho criticato e lui mi ha anche mandato dei messaggi trasversali insomma piccati sulle critiche ma da persona intelligente qual è accetta sempre le critiche però devo dire una cosa ma io non capisco il due pesi due misure Allegri arriva alla Juve dopo che la Juve ha vinto tre scudetti ne vince un quarto arriva in finale di Champions League attenzione Alberto occhio perché ha segnato il Monza ha segnato ancora una volta Maldini Maldini che era entrato nel secondo tempo al minuto 65 due milanisti decate la regola tornata esatto dei cambi del Monza il quarto gol di Maldini in campionato un gol molto bello che vede il calciatore del Monza calciare sul secondo palo una conclusione beffarda che sbatte appena prima arrivare a Carnesecchi che è un po' in ritardo in questa situazione non impeccabile Carnesecchi in questo caso non impeccabile c'è dire che la palla però rimbalza sul terreno però lì da quella posizione lì poteva anche aspettarsi la scelta di andare col tiro a giro è un gol molto bello è molto molto bello il gol di Daniel Maldini 89 novantesimo minuto più recupero insomma qualche minuto di speranza ancora per il Monza ce l'ha ancora vai Max scusami ti abbiamo interrotto no no dicevo che poi arriva in finale di Champions dopo peraltro aver vinto il quarto Scudetto perché tre li aveva vinti prima Conte quindi difficile come diceva giustamente Ezio ripetersi però dipingono quell'annata come un fallimento io me lo ricordo bene fallimento contestato anche dopo mi sembra il terzo Scudetto consecutivo di Allegri il sesto della Juventus riarriva in finale di Champions League altro fallimento io non capisco perché la parola fallimento quando una squadra vince uno Scudetto arriva in finale di Champions League la perde qua invece passa diciamo così sottopiano il fatto che l'Inter dopo che ha messo a disposizione secondo me Vinzaghi una squadra stra più forte delle altre per tre anni vince lo Scudetto al terzo anno non passa gli ottavi di Champions League però nessuno parla neanche di delusione io per dire sono deluso dall'Inter come lo sono dal Milan dal punto di vista dell'annata del Milan e della Champions dell'Inter però io non parlo di fallimento però no non si possono fare secondo me due pesi due misure non capisco come mai fallimento per Allegri e qui invece nessuno dice niente però secondo me la differenza la fa il fatto che la Juve vince tre Scudetti di fila e lo step successivo è vincere la Champions come aveva detto il suo presidente insomma non è proprio così scusami ma non è mica facile vincere il quarto il quinto il sesto il settimo l'ottavo il nono Massimo perdonami non è che te li tirano dietro no non è assolutamente anzi è difficilissimo però io mi ricordo una conferenza stampa di Agnelli a inizio stagione in cui diceva dopo tre Scudetti quest'anno l'obiettivo è la Champions il discorso a Villar però certo che i dirigenti cercano sempre di mettere di mettere pressione giustamente i grandi dirigenti mettono pressione e vanno allo scoperto e dicono certo abbiamo allestito una squadra cerchiamo di arrivare ad alzare la Champions League però non puoi dire che se arriva in finale perde ha vinto lo Scudetto e non so cos'altro aveva vinto quell'anno vedi che non non parlo di altre coppe o di altri trofei ok parlo solo di questi due che secondo me contano solo questi per quelle squadre però non puoi neanche dire fallimento io ho sentito qua qua in questa televisione della gente arrivare e dire che la Juventus aveva fallito la stagione perché non aveva vinto la Champions e arrivata in finale aveva vinto lo Scudetto ma dai ma non scherziamo io credo che bisogna fare un po' la tara come viene definito solo per la Juventus l'ossessione però bisogna fare un po' la tara perdonate la Juve se partecipa alla Champions no ma io la tara la faccio quanto vuoi Riccardo ma io l'ho sentito io no ma l'ho sentito certo ma io sempre ho detto cosa abbiamo sempre detto io faccio la battuta ma dico ho perso sette finali di Champions non mi sono mai sentito dire sei vice campione d'Europa ma quest'anno chi l'ha detto che siamo vice campioni d'Europa l'Inter ha fatto una finale di Champions inaspettata l'ho sentito per un anno vice campione a testata Riccardo l'Inter ha fatto una finale di Champions dove doveva perdere 5 a 0 e ha fatto una signora finale di Champions dopodiché io per carità sono anche d'accordo con quello che dice Massimo però se come prima si diceva di Allegri a cui è stato chiesto sto parlando di quest'anno tu devi tornare in Champions mi sembra per come ha impostato la stagione in Zaghi l'obiettivo principale quest'anno era vincere la seconda stella però non dirmi che non hai sentito per un anno dire vice campioni d'Europa testa alta no testa alta non esiste testa alta se perdi il problema mio è che quest'anno secondo me l'obiettivo era lo scudetto dopodiché l'anno prossimo con una stagione di 60 partite vedremo con questa squadra qui l'obiettivo non era solo lo scudetto con questa squadra qui puoi puntare a qualcosa di più anche perché non dimenticare che sei una finalista dello scorso anno dove hai meritato anche di vincere quella partita di pareggiarla sicuramente una Champions vive di episodi da una Champions all'altra sono dei cicli delle squadre da una Champions all'altra cambia tutto guarda il City campione d'Europa in carica è uscito i quarti quindi non è detto che poi l'anno dopo devi partire per fuori secondo me la Champions è una questione a parte ripeto quest'anno c'è il ramarico di non essere andati avanti ma non hai la certezza di vincere perché tu avevi una situazione comoda nel campionato quindi potevi davvero avere un peso e una definizione importante ma il ramarico è i due gol clamorosi mangiati all'andata perché se vai a Madrid con il 2-0 sai che non puoi sbagliare in Champions ti sto dicendo c'è l'episodio poi dopodiché Pavard che fa una stagione incredibile fa un errore e regala il gol all'Atletico Madrid ti cambia la storia della Champions però se parliamo di ramarico allora la Juve è andata come ricordava Massimo prima due volte in finale ha incontrato un fior fior di Real Madrid e un fior fior di Barcellona e se parliamo di episodi il rigore su Pogba sull'1-1 dicevamo di Zhang che finalmente è tornato a parlare era ospite del Gran Premio di Cina che si è corso quando in Italia erano le 9 di mattina ha parlato allora andiamo a leggere insieme le sue dichiarazioni dice credo che negli ultimi sette anni ogni giorno ci sono state delle voci parla della cessione dell'Inter ma il fatto che siamo vicini al settimo trofeo la seconda stella per il club è qualcosa che aggiunge tanto all'ascito dell'Inter posso dire che continueremo a lottare e a vincere nessuna di queste voci è vera finché sarò il presidente continueremo a puntare al massimo il futuro di Lautaro e Inzaghi Lautaro l'abbiamo visto crescere è diventato un vincente e per me Inzaghi come ho già detto è un dono usa questo termine poter lavorare con un allenatore come Inzaghi da presidente da calma e fiducia nessun dubbio continueremo insieme queste parole sono state riportate oggi giustamente a Simone Inzaghi in conferenza stampa che le ha commentate così ho ascoltato chiaramente stamattina le parole di Zang mi hanno fatto molto piacere ma non sono state non è stata una sorpresa perché con Steven insomma c'è un grande rapporto e posso solo ringraziarlo per come per come si è sempre comportato con me dal mio dal mio arrivo fino fino a stamattina ma soprattutto nei momenti meno splendidi rispetto ad oggi come si è sempre comportato nel migliore dei modi e sono contento per lui che sia uno dei presidenti più vincenti nella storia dell'Inter se lo merita perché tiene molto a cuore l'Inter poi per quanto riguarda la permanenza e il rinnovo di Inzaghi adesso abbiamo un unico pensiero che come ho detto prima è vicino ma poi insomma per il resto ci sarà ci sarà tempo e modo sapendo che io qui sto molto bene perché come ho detto prima ho una dirigenza ho delle persone alle spalle che sono molto molto competenti assolutamente è un ciclo che deve che deve proseguire è normale che se arriva questo trofeo e speriamo che arrivi presto come ho detto prima insomma sarebbe il sesto in tre anni il settimo negli ultimi sette anni e quindi deve continuare abbiamo una dirigenza alle spalle che si sta già muovendo per far sì che questa cosa possa continuare sapendo che il pensiero mio della squadra non è sul 2024 2025 ma su questa stagione in corso fermo restando che insomma l'Inter sta già lavorando molto molto bene anche per il prossimo anno Taremi e Zilinski già acquistati a parametro zero l'impressione che insomma Marotta si sia mosso e si stia muovendo con largo anticipo per dare la famosa doppia squadra all'Inter in grado di puntare parallelamente avere due squadre titolari sostanzialmente ricorderete tempo fa abbiamo fatto anche una grafica per mostrarvi proprio i doppi nomi su ciascun ruolo oggettivamente quando entri come dire in un circolo virtuoso ti puoi permettere anche di ragionare in prospettiva no Gianni quello che magari squadre che devono obbligatoriamente ricostruire o ricominciare non dico da zero ma quasi non possono permettersi di fare l'Inter sì sicuramente poi loro hanno avuto l'intuizione di scegliere bene fra questi parametri zero lo scorso anno perché ricordiamo che hanno preso dei giocatori che praticamente non avevano mai fatto dato il massimo nella loro carriera come stanno dando oggi parametri zero che sì hanno un problema a lungo termine quello che costano tanto di ingaggio però e devi dare una bella provvigione alla gente però insomma non li paghi alle società sono liberi in questa prospettiva futura l'Inter secondo me già aveva una rosa ampissima di titolari che non erano solo 11 adesso con l'inserimento appunto di questi due già annunciati sicuri e in prospettiva con il mondiale club quindi introiti pesanti a livello di società credo che abbiano un portafoglio che secondo me io sono convinto che qualche offertina importante arriverà per qualche giocatore dell'Inter e per questione di bilancio credo che poi alla fine qualche giocatore partirà a proposito di bilancio scusami la notizia di oggi l'avete letta sui giornali anche dal punto di vista finanziario c'è un'evoluzione poi mi direte voi se è un'evoluzione positiva o meno ma fondamentalmente Zang avete visto le parole che abbiamo mostrato conferma di rimanere in sella all'Inter lui non vende l'Inter c'era questo discorso che entro il 20 di maggio lui dovrà restituire 375 milioni di euro interessi compresi a Oktri altrimenti Oktri potrebbe scutere impegno l'Inter stessa perché l'Inter è stata data impegno ecco pare che adesso sia entro 15 giorni possa arrivare l'ufficialità del subentro di questo nuovo fondo americano quindi americano con americano che si chiama Pimco che sarebbe pronto a sovvenzionare 400 milioni di euro all'Inter con questi 400 milioni di euro Zang cosa fa? salda il debito da 375 con Oktri che quindi esce da questa vicenda e di fatto diventa debitore non più di Oktri ma di Pimco e paga 48 milioni di tasse di interesse ogni anno da capire quanto sarà l'interesse attualmente con Oktri è il 12% penso che sarà almeno altrettanto e per un altro triennio perché erano stati 3 anni con Oktri 2021-2024 infatti scada adesso sarebbe sui 3 anni 2024-2027 ha un tasso di interesse vedremo di capirlo però con la garanzia di rimanere in sella all'Inter cioè Oktri non prende l'Inter Zang non vende o se vende lo può fare in prospettiva con più calma potrà cercarsi un acquirente con più calma magari quando avrà professionato anche la questione stadio sia inevitabile la cessione dell'Inter in futuro perché adesso non so se si dovrà fare un anno o due però è chiaro che un presidente che non può venire in Italia non può tenere una società qui indebitata che ha questo debito pesante e ribadisco se facciamo il conto della Serva sono 48 milioni l'anno di interessi solo per il debito da 400 che rimane quindi insomma è una situazione piuttosto pesante se arriva l'offerta giusta io credo che ti stia prendendo tempo per poterla vendere Francesco voglio fare chiarezza su una questione perché oggi mi sono un po' documentato l'Inter chiede questo finanziamento questo prestito a questo fondo di investimento che è Pinco per 400 milioni lui Zang cosa fa prende i 400 milioni e va a liquidare OCTRI ricordiamoci e questa cosa è scritta che nel debito precedente che aveva con OCTRI di 385 milioni Zang l'Inter o comunque la famiglia non ha utilizzato tutti quei soldi non li ha messi nell'Inter quindi tra dare e avere compreso gli interessi in tasca Zang dovrebbero rimanere tra i 100 125 milioni di euro quindi questo è il primo passo il secondo passo è a differenza di OCTRI Pinco non è un fondo che autolifinanzia cioè non è un fondo che lucra su queste cose la sensazione per il tipo di fondo che è questo Pinco è che lavoro per conto terzi quindi cosa vuol dire che ci sia dietro un personaggio o comunque una società interessata all'acquisto dell'Inter tutti i fondi hanno dietro più o meno investitori più o meno pesanti questa cosa qua mi fa convincere il fatto che da qui a un anno e mezzo l'Inter possa cambiare tranquillamente proprietà questo è il racconto di quello che succederà se Pinco entra nell'Inter c'hai fatto una bella spiegazione di finanza io però faccio una domanda molto semplice molto terra prima quando Francesco spiegava io ho capito che c'era un debito con il signor A adesso c'è un debito con il signor B non è cambiato niente è un presidente indebitato fino al collo è un presidente che ha un debito come tu quando compri casa è un mutuo a te risulta il motivo per cui lui non può venire in Italia lui ha dei problemi personali finanziari in Cina oggi abbiamo sfatato il primo episodio non è in galera quindi a meno che non gli abbiano dato l'ora d'aria per uscire no perché parlavamo prima di Zhang non è agli arresti domiciliari non è in galera perché sennò avrebbe avuto l'ora d'aria per andare a vedere il Gran Preto ma tutto questo io voglio dire che non è che la situazione Riccardo non è che la situazione sia migliorata è cambiato il personaggio che ti presta il denaro quindi hai guadagnato tre anni quindi il famoso 20 maggio non esiste più adesso c'è il 20 maggio ma come è arrivato o sta per arrivare fra dieci giorni maggio arriveranno questi tre anni nel frattempo vedremo cosa succede nel frattempo non mi sembra che l'Inter a livello tecnico perché gli viene permesso di continuare a fare perché gli viene permesso in che senso scusami sta facendo qualcosa di illegale qualcuno a me sembra che ci sia anche un esposto alla procura alla federazione non c'entra niente l'Inter non c'entra niente l'Inter con l'esposto fatto dalla procura italiana su Zhang l'Inter è fuori documentati perché è la verità c'è qualcosa di illegale in tutto questo di un altro esposto io ti chiedo c'è qualcosa di illegale che è stato fatto da un'associazione di su tre procure Roma, Milano e Torino non c'entra niente il marchio Inter dove si chiede ma poteva l'Inter e io pongo il punto di domanda alla fine della mia frase poteva l'Inter iscriversi a questo campionato ma chi l'ha detto questo esposto un sito bianconero che ha fatto l'esposto non è un sito è un blog di bianconero no ma la denuncia alle tre procure è stata fatta a tutti gli effetti non è una è un blog bianconero che ha fatto una denuncia l'ha fatto l'unice avvocati sbagliando in pieno perché la Covisoc non essendo lui un ente giusto Dezio non poteva fare l'esposto perché non è e secondo te questi undici avvocati sono così sproveduti e secondo te la Covisoc non ha controllato l'iscrizione dell'Inter a mia sensazione è un tentativo di arrampicarsi sui vetri che secondo me non ha senso però tu fai il tifoso giuventino io faccio il tifoso interista non parliamo non iniziamo a fare paragoni perché dopo se mi dici passaporti ti comincio a parlare io non facciamo paragoni perché se no non usciamo più le parole di Zanga secondo te tranquillizzano rasserenano un pochino l'ambiente lasciano dei dubbi sul futuro dell'Inter inteso come proprietà ma intanto ha segnato Real Madrid io sto guardando anche Real Madrid Barcellona ha segnato al 91esimo porca miseria vabbè mi dispiace perché perché comunque se avesse se avesse pareggiato 2 a 2 insomma qualcosa in più della Liga c'era da vedere no allora io ti dico questo che a Riad quando c'è stata la diciamo così le finali per la Supercoppa italiana un mio amico procuratore è andato a cena con ausilio che gli ha praticamente detto che insomma stavano facendo tutto loro da soli perché Zanga non si era più visto e insomma io credo che la verità stia un po' in mezzo nel senso che una società che tra virgolette continua a girare questo prestito perché questo mi sembra che sia la terza volta che va su un prestito significa che insomma tanta liquidità non mi sembra che ci sia e tant'è vero che io prima perché ho detto la società sta facendo i miracoli e i dirigenti sono migliorati tantissimo proprio perché vivono sempre in equilibrio molto sottile tra quello che si può fare poco è quello che non si può fare tanto cosa si può fare o vendo qualcuno o vado a cercare o vendo qualcuno che magari ho preso a parametro zero faccio una pulizia valenza e poi vado a cercare dei giocatori a parametro zero che sicuramente sono dal punto di vista della della competitività magari ad alti livelli ma poi magari non li riesci a rivendere ti può essere andata bene con Onana magari non ti va bene con Taremio o con Zelischi nel senso che li prendi a parametro zero ma poi non è che poi fra tre anni li rivendi ok e questa è una cosa però riesce sempre a mettere l'Inter a livello competitivo e quindi questo è importante perché soprattutto tramite la Champions soprattutto tramite il Mondiale per Club porti a casa tanti soldi la verità è anche questa che chiudere un prestito con un altro prestito non è un grandissimo segnale è un segnale che Timco che è comunque una società che gestisce tantissimi fondi tra cui anche i fondi che perché è un similazimut azimut in Italia gestisce tantissimi portafogli importanti di diversi italiani importantissimi aziende eccetera eccetera poi però non fa questo tipo di operazioni di prestito Pinco invece fa quel tipo di lavoro diciamo azimut e poi però fa anche un tipo di lavoro per cui riesce a prestare a fare questi prestiti a prendere come controvalore impegno poi delle società in pratica in questo momento diciamo che c'è un Inter che è in autogestione dai suoi dirigenti è un presidente che mette delle pezze a dei debiti che ha obiettivamente coprendo un debito con un altro debito di fatto è questa la realtà in chiave proprio non di finanza ma molto e la sua fortuna però è avere dei dirigenti capaci perché chi li ha presi dirigenti capaci? come? chi li ha presi dirigenti capaci? lui adesso è merito di Zank chi è che li ha presi? chi è che ha preso Marotta? era sul mercato il migliore di tutti era Marotta non è merito quando è arrivato Suning voi avete un grande presidente Marotta no non ho detto questo Marotta dà l'addio alla Juve e dopo 15 giorni firma con l'Inter sono stati bravi ad anticipare gli altri ma voglio dire in questo momento la fortuna di quel signore che sta in Cina è avere una dirigenza che sa gestire amministrare e far crescere il livello tecnico quindi avere introiti maggiori tutto quanto che è un colpo di fortuna perché se avesse qui quattro scappati di casa ciao Inter lo so potesse però il fatto è che loro hanno preso Marotta però voi avete un problema pesante di presidenza questo è inutile che non è niente di illegale che poi al tifoso non gliene freghi nulla perché tanto ho sentito l'altro giorno credo che il debito in generale della Serie A siano 8 miliardi fra tutte le società divise quindi voglio dire oggi che le società siano indebitate ma non tutti si rivolgono a delle società dove vi prestano quando voi avete problemi avete preso la cassaforte e avete firmato una bella la tasca destra che l'ho preso dalla vostra tasca non siete andati a prendere dalla tasca di Riccardo e glielo hai date a Gian Bruno però siccome io ci tengo a sottolineare che non è niente di illegale quello che sta facendo io non sto parlando di illegalità io sto solo dicendo una cosa voi avete elogiato Marotta giusto? mi sembra che Marotta sia oltre che essere elogiato sia una persona che ci mette spesso la faccia e che supporta la società e che non è uno stupido quindi perché il tifoso deve stare tranquillo perché se in questa situazione in cui tu dici che c'è un problema di presidenza Marotta e tutto lo staff dirigenziale rinnova il suo mandato vuol dire che forse una base solida ma perché hanno l'autonomia totale ho detto che c'è l'autogestione come non avere pensato ma se tu hai una società allo sbando e un presidente che è allo sbando tu non vai a rinnovare tre anni con l'Inter mettendoci la faccia e far la figura che se un domani succede qualcosa ma secondo te ti faccio una domanda tu credi che sia facile per una qualsiasi società con un presidente e una proprietà avere carta bianca come hanno questi qua? no tutt'altro